Volete i crediti per sniperare? Allora passate da ssgold.com e applicate lo sconto il cina in minuscolo per avere il 5% di sconto, link in descrizione Eccoci qui ragazzi, finalmente tornati con un nuovo video Oggi volevo un po' guardare gli investimenti da fare per quanto riguarda i TOTS della BPL Ci sono dei giocatori su cui probabilmente investirò perché sono bassi di prezzo Ora abbiamo dei possibili scenari che si possono presentare e in questo video ve li andrò un attimo ad illustrare Ovviamente prendete con le pinze tutto quello che vi dico, se pensate che non è un investimento buono non fatelo Se pensate che magari scenderanno ancora di più aspettate, in ogni caso a me sembra che in questo momento i prezzi siano veramente bassi Nonostante questo il primo scenario che si può presentare è quello che escano i pacchetti TOTS garantiti Escano appunto i player pick e la EA metta più giocatori forti possibili all'interno di questi player pick E ricordiamoci anche che i fuori classe hanno il pacchetto TOTS garantito Quindi alcuni giocatori con overall più basso caleranno giovedì per poi ovviamente fuori dai pacchetti risalire comunque un minimo Perciò questo è il primo scenario che si può presentare Il secondo scenario è che oggi i prezzi siano i più bassi della settimana e in assoluto Come abbiamo visto per i TOTS della community su cui io personalmente non ho investito molto E infatti me ne sono pentito perché poi il giorno dopo sono saliti in una maniera spropositata Quindi allora andiamo a vedere perché oggi volevo anche cercare di sniperare con voi qualcosa Andiamo a vedere il primo TOTS che a me sembra decente come prezzo E' appunto il nostro Adama Traore Adama Traore che si può trovare a 290.000-285.000 E ovviamente è il suo prezzo minimo Perché se andiamo a vedere il grafico di oggi Vi ho messo la schermata di Footbin Abbiamo 288, 283, 280 Quindi siamo circa sui 280 Il suo prezzo minimo è stato 280 perché era 300, 300 anche 350.000 Quindi questo giocatore potrebbe essere molto in meta Semplicemente perché c'è la sua versione Headliners che era usata molto Ricordiamo però che ci sono molti player in meta per quanto riguarda le ali Ovvero Bergwink Molti vogliono messi oro perché è strabuggato nella WL Perciò questo investimento è un po' rischioso Andiamo a mettere come prezzo minimo Vediamo il suo scrim a quanto sta Come price range 3,60 l'hanno fatto apposta Perché così almeno la gente non può sniperare Però abbiamo visto che escono anche a 280 Quindi forse se dovesse uscire a 280 Sarebbe anche il caso di prenderlo Io vi dico subito Se questo Adamatraore dovesse scendere sotto i 260-250 È da prendere subito È da fare un mass investment E provare a vedere se riuscite a piazzarlo a 300.000 Quando esce fuori dai pacchetti È l'unico modo per vedere di fare un po' di crediti Vi ricordo però che quest'anno la EA come al solito Cerca di non far fare compravendita Quindi state attenti Cercate di venderlo quando il prezzo Siete contenti del vostro guadagno 20, 30, 40k Mi raccomando Adesso qua non escono ovviamente ai prezzi che vogliamo noi A 2,79 Ovvero meno del prezzo minimo a cui è stato Invece volevo vedere con voi anche un altro giocatore Molto in meta Che secondo me è sceso tantissimo di prezzo Ovvero Allison Che stava a 500.000 crediti Il suo Toti Quindi nel momento in cui è uscito il Tots E c'è stato tanto supply È sceso notevolmente A 155 Ecco questo è forse uno degli investimenti più sicuri Che vi posso consigliare Perché Allison sinceramente A questi prezzi qua Ora c'è il 90 Quindi noi Il 90 quanto sta? A 60k Quindi noi mettiamo tipo Non lo so 70-80.000 crediti Anche 90 E andiamo a vedere A 155 Se c'è qualcosa Andiamo a vedere un secondo Ci saranno tutti i suoi Le sue versioni Nominis Ok Usciti Usciti Sempre 154 155 Mai uno che costi magari Un 150 149 150 Lo prendo Lo prendo raga Lo prendo a 150 Ragazzi Adesso questo qui Proviamo a metterlo a qualche lazy buyer Per 175.000 Vediamo un po' Se dovessimo venderlo a 175.000 Avremmo un guadagno Di circa 16.000 Crediti Ok poi Andiamo a vedere un attimo Kovacic È abbastanza buono Però Secondo me Questo prezzo qui Non rispecchia Si potrebbe anche Un pochettino Abbassare ancora Soyuncuo Non so come si pronunci Sta a 166.000 Crediti E È uno dei giocatori Più forti E buggati Per quanto riguarda La difesa Anche se abbiamo visto Che sono usciti un sacco Di giocatori McGuire Nella SBC È uscito anche White Nella FL Cup Che molti hanno fatto Sempre SBC Player Quindi Questo giocatore qui È forte Tutto Però io non so Quanto si può Salsare Data la mole Di giocatori Non scambiabili Che la gente Sta facendo In questo momento Quindi 166.000 È ok Questo qui Potremmo anche Sniperarlo Perciò adesso Abbiamo 177.000 Crediti Andiamo a vedere Se riusciamo Allora In questo momento Sta a 166 Perciò Se il suo prezzo Minimo Mettiamo 165.000 Dobbiamo cercare Di prenderlo A 156 Ovviamente È molto difficile Però Vi ricordo Che ancora Nei pacchetti Quindi Potremmo provarci A fare Quei 5 6k Di guadagno Vi consiglio Di provarlo Questo player Di provare A sniperarlo Perché Forse Potrebbe salire Un pochettino In WL La gente L'ha provato La scorsa WL Ed è piaciuto Abbastanza Vabbè Mentre sniper Ragazzi Volevo comunque Dirvi Che ci sono Alcune carte Che sto vedendo Qui Che sotto I 400.000 Ci stanno Come investimenti A parte A parte Quelle Che vi ho Detto Ci sta Van Bissaka Che sa 310 L'ho visto È molto forte In game Quindi Non mi stupirei Se magari Dovesse salire Di prezzo Però 310 È già Molto alto Vi devo dire La verità Poi oltretutto Appunto Con i pacchetti Garantiti Non si sa mai Cosa potrebbe Succedere Vi dico Solo una cosa Nel momento In cui esce Il pacchetto Tots garantito La gente Panica E vende Alcuni giocatori Quella È l'ora Migliore Per cercare Di accappararsi I player Perché A mio parere Saranno A quei prezzi Per la durata Diciamo Di un'oretta Due oretti Un'oretta Due orette Dall'uscita Delle sbc Dopodiché A quel punto Una volta Uscita La sbc I player Peek Eccetera Questi giocatori Non ci saranno Più nei pacchetti Nei giorni seguenti E saliranno Solo di prezzo Un altro player Che vi volevo Far vedere È Roberson Che sta Circa 305 Mila crediti Vi ricordo Che il Toti Stava Sui 700 E passa Mila Quindi A mio parere Anche questo qua Se riuscite a sniperarli Ragazzi Tanto meglio Anche se Roberson Devo dire che C'ha un sacco Di versioni Ed è molto Difficile Da sniperare Stessa cosa Per Trent Alexander Arnold Sono dei giocatori Che hanno ricevuto Un sacco Di versioni Durante l'anno E quindi È difficoltoso Sniperarli A maggior ragione Per questo motivo Se riuscite A farlo Sappiate Che potete Venderli Tranquillamente A dei prezzi Più alti Rispetto al loro Prezzo di mercato Come al solito Perché vi ho detto Sempre che I lazy buyer Comprano Questo tipo di Carte Non hanno voglia Di stare a cercare Con tutte le versioni Speciali Che ci sono Entrano nel mercato Direttamente E vanno a comprarlo Oddio Oddio 150 Raga Mamma mia Questa sniperatina Uh C'ho ancora La mano del king C'ho ancora La mano del king Raga Uh Ah 168.000 Però noi Possiamo venderlo Ovviamente Io Cercherò di listarlo A 175 Perciò Abbiamo Circa fatto 166.000 Abbiamo fatto Un 16k Di guadagno Netti Allora Andiamo a vedere Un attimo Di listarlo A 175 Anche forse Un po' di più Tanto per vedere Se lo riusciamo a vendere Dato che Sono riuscito a sniperarlo A 150 Ho un margine Minimo Di perdita Nel senso che Anche se dovesse calare Il prezzo Di questo giocatore Che in questo momento Sta a 168 Capite bene Che io perderei Molto meno E quindi Posso tenerlo Di più Come investimento A lungo termine Dovete pensarla così Nel momento in cui Riuscite a sniperare Determinati tipi di giocatori A 15 20k In meno Sappiate Che potete Tenerli Come investimenti Un filo Più a lungo termine Rispetto al normale Quindi ragazzi A me sembra Di avervi detto tutto Qui c'è anche Questo Roberson Qui che sta 297 Adesso Questo dovrebbe essere Uno dei prezzi minimi Di Roberson Andiamo a vedere Un secondo 291 No forse 288 E' stato il prezzo minimo Si è già alzato un po' Ieri a quanto stava 282 Quindi si sta già Un pochettino Alzando Però Sfrutterei comunque Il fatto Che magari Alcune persone Panicheranno Stasera O quando uscirà L'SBC Quindi ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Oltre a darvi Delle informazioni Ci siamo un attimo divertiti A sniperare Alcuni giocatori Sono contento di questo La mano del King Si fa sempre sentire Noi ci vediamo Un prossimo video Un saluto dal Cina E bella lì BUUUUU Un saluto dal Cina 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 Un saluto dal Cina